A Palermo arrestato un 24enne Francesco Paolo Comignano, accusato di aver rapinato un'abitazione in Vienotar Bartolo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nel mese di aprile, il giovane si sarebbe introdotto nell'appartamento e dopo aver minacciato ed aggredito con un cacciavite l'inquilino, avrebbe portato via soldi e oggetti in oro. Per l'individuazione del responsabile della rapina, fondamentale il sopralluogo effettuato dal nucleo operativo San Lorenzo e le analisi scientifiche svolte dai RIS di Messina. Comignano è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Resta ancora un mistero il ritrovamento dei tre submorti sulle spiagge di Castel di Tusa, Cefalù e Termini Merese, così come i 38 kg di ascici rinvenuti sui litorali di San Leone, Real Monte, Belice Mare, Marsala e Capodorlando. Cinque le procure siciliane, Agrigento, Trapani, Termini Merese, Patti e Messina, che si sono attivate nelle indagini. Si registra anche la partenza di un elicottero della Guardia Costiera, che ha battuto la costa tirrenica da patti a Trapani, per individuare eventuali relitti di imbarcazioni o altri elementi utili alle indagini riguardo i cadaveri dei sub e la droga. Assolto dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, Carlo Lomonaco, trentenne, che lo scorso 12 agosto in una macelleria a Piazza Armerina ha ucciso il padre a coltellate. Per i giudici, al momento dell'omicidio, Lomonaco non era capace di intendere e di volere. La sentenza ha stabilito che l'uomo sarà scarcerato e ricoverato per dieci anni in un istituto di cura. A Giarre, poco prima dalle 4.30, un ordigno è stato piazzato e poi fatto esplodere nelle vicinanze dell'erogatore elettronico di sigarette che si trovava all'interno di una rivendita tabacchi di Via Alfieri, nel quartiere Carmine. Il dispositivo, con esposizione esterna in stile Bancomat, è stato squarciato dalla deflagrazione. L'episodio di questa notte è il secondo in poco più di due settimane. Il 3 gennaio scorso ha tentato fotocopia i danni della rivendita tabacchi Barbagallo di Viale Don Minzoni. Anche in quel caso, gli autori dell'azione hanno colpito allo stesso orario e con le medesime modalità.